Ciao a tutti amici, sono io, Julia War, e oggi sono qui per fare una nuova puntata edicola. Allora ragazzi, oggi apriremo insieme ben quattro confezioni di questo nuovissimo Schifidol Fluffy Slime, ovvero slime perle profumati. Era da un po' che lo stavo cercando, però in tutte le edicole in cui sono andata dicevano che non era ancora arrivato, eccetera. Scusate se non l'ho potuto recensire prima, anch'io lo desideravo, infatti adesso ne ho preso ben quattro confezioni perché, tipo, come sapete io amo gli slime e questo Fluffy con delle perle all'interno è tipo un qualcosa di fantastico. Prima di iniziare volevo salutare i delfini, praticamente su Instagram hanno creato una fanpage per me e io ringrazio la creatrice di questa fanpage. Se la volete seguire si chiama Julia Guerra, Julia War, potete cercare così. E hanno deciso di chiamarsi delfini, i miei fan hanno deciso di chiamarsi delfini, quindi io li saluto tutti e li ringrazio per seguirmi sempre. Bene, adesso passiamo alla recensione. Qui c'è anche, appunto, un piccolo booklet, una rivista, dove ci sono tutti gli slime. Come vedete ci sono anche dei vari colori. Io, appunto, ho preso questo qui, verde chiaro, con il profumo all'uva, sì perché questi fluffy slime hanno anche un profumo. Poi, questo qui rosso, perché volevo troppo un fluffy slime rosso, però non c'era nelle altre versioni, con il profumo dei muffin, bellissimo. Questo qui, azzurro, con il profumo delle caramelle. E poi questo qua, bianco, bianco crystal, per la precisione, con il profumo della cioccolata, a chi non piace la cioccolata. Bene, detto ciò, direi di partire subito. Partiamo da questo qui, blu, dai. Oddio, sono troppo emozionata. Sì, io mi emoziono facilmente, anche per il semplice fatto di dover aprire la confezione di uno slime, va bene. Togliamo anche questa. Eccolo qua. Il primo fluffy slime con le perle. Ce la devo fare. Oddio. No, sembrano troppo quelli di Instagram. Praticamente, su Instagram, spesso dei ragazzi e delle ragazze, penso americane, specialmente americane, postano dei video degli slime mentre li toccano, tipo, è un qualcosa di bellissimo. E spesso alcuni hanno anche delle perline all'interno, dei glitter. Oddio, sembra bellissimo. Oddio. Wow. E' anche glitterato. Oddio. Oddio, no, è una cosa bellissima. Oddio, fa un rumore stranissimo. No, poi si sente tantissimo l'odore, anche da qui. Oddio, no, è bellissimo. Poi l'odore è buonissimo. Sì, di caramelle. Oddio, mi sta venendo fame. E' super morbido. Guardate, adesso è pieno di perle. E' bellissimo, è bellissimo. Oddio, mi piace troppo. Guardate. Oddio, che bello. va bene, basta sclerare su questo slime, passiamo agli altri. Comunque qui appunto c'è il booklet con tutti gli slime. Ok. Passiamo all'altro. Ok. Oddio. Allora, un attimo. togliamo il booklet. Allora, eccolo qua. E' un po' più micatinata la faccenda, perché era addirittura andata a finire dentro la bustina del booklet. Ma l'importante è che adesso sia arrivato da me. Guardate, è bellissimo, perché ha le perline bianche e poi sotto è trasparente. Tipo io non ho mai avuto uno slime trasparente. Bellissimo. Oddio. E' troppo bello. Guardatelo che bello. No, mi piace troppo. Ok, andiamo avanti. Io sto impazzendo. Davvero, questi slime li sto adorando. Proprio in una maniera, sto letteralmente impazzendo. Direi di lasciarci quello rosso per ultimo e passare a quello verde. Comunque, ora che ci penso dovrei sentire l'odore. No, sa davvero di cioccolata. Che buono. Adesso ho ancora più fame. Mi ero dimenticato di odorarlo e ho fatto male, davvero. Perché l'odore è buonissimo. Perché l'odore è buonissimo. Adesso passiamo veramente a quello verde. Oddio. Wow, allora, è qualcosa di bellissimo. Devo riuscire a prenderlo, però. Wow, che bello tutto glitterato. Bellissimo. Che poi, di sotto, non ci sono le perle. Ci sono solo sopra. E poi, vabbè, ovviamente bisogna uniformarle. Questi semi trasparenti sono proprio belli. L'odore è bellissimo, è buonissimo, scusate. Wow. Mi ricorda molto l'odore che di solito si sente quando si fanno i pop-in cooking. E appunto, tra gli ingredienti c'è l'uva. Comunque, è bellissimo. Mi piacciono troppo questi slime con le perle. Li voglio tutti. Bene, ragazzi. Adesso passiamo finalmente all'ultimo slime. Ok. È quello rosso, quindi sono super felice perché il rosso è il mio colore preferito, seguito dal verde, quindi. Ok. È il rosso il mio colore preferito, però questo è per il mio colore preferito. È proprio davvero incasinato come slime. Ok, devo aggiustare subito qualcosa. Allora, eccolo qua. Oh, che buono. Sembra l'odore dei muffin appena sfornati. Buonissimo. Che bello. Allora, adesso dovrei riuscire a prenderlo. Eccolo. Oddio, guardate che bello. Guardate. Sopra, tutte le palline, le perle. E sotto, slime. Volendo, si potrebbe anche saccare, tipo. No, no, meglio evitare. Oddio. Belli. Guardatelo che bello. Ok, il rosso è il mio colore preferito. Non solo perché è il rosso, il rosso è il mio colore preferito, ma perché è il più bello fra tutti quelli che ho. Che vabbè sono questi quattro però, dettagli. Oddio, che bello. Perciò ragazzi, che vi posso dire, 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 che vi posso dire di questi slime, questi schifidollo fluffy slime perle profumati. Allora, sono un qualcosa di bellissimo, mi piacciono tantissimo, ve li consiglio. Vi ricordo che il prezzo è 3,50 euro, quindi se vi piacciono i slime come mi piacciono a me, devono per forza entrare a far parte della vostra collezione. Bene, adesso passiamo ai saluti. Ciao. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. 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 Ciao.